Buonasera, quando si parla di patrimoniale è come se si parlasse dell'aglio a un vampiro. Subito si scuote una parte dell'opinione pubblica, una parte cospicua dell'opinione pubblica, che teme la tassa sul patrimonio, la tassa che può essere la più pesante, che però molti altri ritengono essere giusta e giustificata, dato il momento difficile e che vive il Paese la necessità di reperire soldi per raddrizzare i conti dello Stato. Perché vi dico queste cose? Perché oggi è sembrato che Mario Monti parlasse proprio di patrimoniale. Il fatto è che parlava a Milano in un incontro internazionale di una grande rivista finanziaria internazionale in cui la lingua d'uso era l'inglese e la risposta in inglese, data peraltro a una giornalista italiana dal Premier, sembrava evocare davvero l'idea che alla fine ci fosse tra le possibilità imminenti anche quella di una patrimoniale. Invece poi le cose sono state spiegate in maniera diversa, noi documenteremo cosa è stato detto e cosa sembrava fosse stato detto e insomma Palazzo Chigi smentisce che ci sia una prospettiva di tassa patrimoniale. Il fatto si è che questo è stato il fatto su cui si è più parlato in questa giornata, perché poi quando si parla di nuove tasse è come se non ce ne fossero già abbastanza in giro, soprattutto sul gobbone di chi le paga le tasse. E l'altra questione infatti a cui Monti ha fatto riferimento è quella della lotta all'evasione fiscale, che però è argomento sempre verde e mai risolto come sappiamo. Per un tormentone che prosegue un altro che forse è arrivato a conclusione, perché a quanto pare sono state trovate le risorse, le norme e il placet della ragioneria dello Stato per dire che è superata la questione degli esodati. Finalmente è stato trovato sia il meccanismo, sia la copertura finanziaria, sia appunto il placet di chi fa i conti e di chi controlla appunto la copertura delle leggi per arrivare a una soluzione definitiva per tutti i lavoratori che si trovano in quella condizione che è stata più volte evocata, di chi non ha più il lavoro avendo chiuso anticipatamente con la propria azienda e non ha ancora, perché sono slittati i termini, la pensione dopo la riforma Fornero. A proposito di Fornero, dura contestazione a Napoli contro il ministro del lavoro che incontrava il suo collega tedesco e anche polemiche per l'assenza di De Magistris dall'incontro e anche la mancata stigmatizzazione della violenza che è stata parziale, ma c'è stata nelle proteste. Vedremo anche come si parla, come sempre peraltro in questi tempi, di legge elettorale e c'è un attacco diretto contro anche il Quirinale da parte di Emma Bonino e dei radicali che dicono che c'è veramente uno stalking in corso nei confronti del Parlamento per arrivare al cambiamento della legge elettorale tre mesi soltanto prima della campagna elettorale. Ma poi ci sono le primarie del centro-sinistra, stasera c'è il faccia a faccia tra i cinque candidati, sapete, oltre a Bersani, oltre a Renzi, oltre a Vendola ci sono anche Tabacci e la Puppato. Si vota tra 13 giorni e chissà se servirà questo incontro, che comunque ha i suoi motivi di interesse. Ci sono tante altre notizie, tra cui il nostro sondaggio e c'è anche un'inchiesta della magistratura è clamorosa. Ma la vediamo insieme dai titoli. Il giallo della patrimoniale l'ha evocata, l'avrebbe evocata parlando in inglese Monti in un intervento al forum del Financial Times a Milano. La cosa peggiore sarebbe introdurla senza gli strumenti necessari. Ma la traduzione riportata non è fedele. Il Palazzo Chigli è costretto a precisare. Non è prevista alcuna tassazione sui patrimoni. Il Premier ha solo chiarito le scelte fatte. Esodati. A quanto pare c'è la soluzione. Via libera dalla ragioneria dello Stato al testo che prevede il reperimento dei fondi dalla stretta delle pensioni dei ricchi che non saranno adeguate all'inflazione. Cambiano anche le categorie dei salvaguardati. Ha provato anche l'emendamento per la riduzione delle tasse dal 2013. Smentita. L'ipotesi di alleggerire l'Imu alla Chiesa. Il Presidente Napolitano l'ha richiesta più volte. Ora che l'intesa sembra vicina, sulla nuova legge elettorale arriva il duro intervento di Radicali indirizzato al Quirinale. Volete fare la legge elettorale benché vada a dicembre? A pochi mesi dal voto ci porta fuori da qualunque schema raccomandato dall'Europa. È inaccettabile, diciamo Agonino. Sul sito del Partito Democratico vendono definiti i fantastici cinque. Bersani, Renzi, Vendola, Tabaccio e Pupato si sfidano in dibattito TV a 13 giorni alle primarie. È un elemento nuovo di attenzione verso il centro-sinistra, spiega il segretario del PD, che intanto pensa allo stop ufficiale a chi ha più di tre legislature, come peraltro Bindi, Finocchiaro, Fioroni. Giudizi falsati. Un'informazione tendenziosa e distorta sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative adottate dal governo. Con questa durissima accusa, la procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per sette dipendenti delle agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch, che replicano accuse totalmente infondate. Il nostro sondaggio del lunedì segna un rimbalzo dei due partiti che più hanno sofferto, Popolo della Libertà e Italia dei Valori di Pietro e qualche invece inclinatura per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle dopo le polemiche. Anche il PD è in leggera flessione, ma era ai suoi massi. Allora, buonasera. Apriamo con quello che è stato un giallo, ma non un giallo di quelli che possono far sorridere o appassionare platonicamente. È un giallo su una tassa, un'ulteriore tassa che è stata molte volte evocata come l'arma totale per, in qualche modo, rimettere in sesto i conti dello Stato, la patrimoniale. Ne ha parlato davvero o no Monti oggi? Milano, su Mitsulitalia del Financial Times. Verso la fine di un lungo botta e risposta in inglese rispondendo alla giornalista di servizio pubblico Giulia Innocenzi, Mario Monti pronuncia la frase che genererà il giallo. Frase chiara, dunque. Stando così le cose, non avendo a disposizione gli strumenti sufficienti, nessuna patrimoniale può essere ipotizzabile, anche perché la conseguenza sarebbe una fuga di capitali all'estero prima ancora di riuscire ad introdurre l'imposta. Il problema è che le agenzie di stampa in mattinata, questo il primo lancio delle 10 e 32, avevano battuto una notizia del tutto diversa. Il governo intende introdurre nel nostro paese una tassa sul patrimonio, ma non nottetempo e non dovrà incentivare l'allontanamento dei capitali. Traduzione giusta della seconda parte della frase di Monti peccato che mancasse la premessa quella cosa peggiore che potremmo fare sarebbe che cambia totalmente il senso del Monti pensiero. E allora, mentre già si sprecavano le reazioni politiche con i rappresentanti del PDL in prima fila ad urlare contro l'introduzione dell'imposta sulla ricchezza e il ministro della giustizia Severino a gettare acqua sul fuoco stupita dal presunto annuncio di Monti, è arrivata la nota risolutiva di Palazzo Chigi che più o meno all'ora di pranzo ha dato l'interpretazione autentica della posizione del professore e del governo sulla patrimoniale. Il presidente del Consiglio non ha affatto annunciato, si legge, un intervento di tassazione sui patrimoni, ma si è limitato a spiegare le scelte fatte. Effettivamente, in precedenza, prima della frase incriminata, Monti aveva dichiarato di non essere pregiudizialmente contrario ad una tassa patrimoniale ed aveva ammesso che all'inizio del suo mandato il governo aveva sì valutato la possibilità di introdurre un'imposta di questo tipo, salvo poi scartare questa ipotesi per la mancanza di dati sufficienti e per la contrarietà di alcune delle forze di maggioranza, pur intervenendo in seguito su varie componenti della ricchezza patrimoniale separatamente, con un risultato effettivo in qualche modo paragonabile. L'IMU del resto è molto più simile a una patrimoniale di qualunque altra tassa e, insomma, il succo è quel che doveva essere fatto in quel senso è stato fatto e una patrimoniale vera e propria non è in agenda a dispetto di ogni tipo di annuncio vero o presunto. A quanto pare sugli esodati si è trovata finalmente la quadratura del cerchio e c'è perfino il placet della ragioneria dello Stato. La copertura c'è e a questo punto il problema sembra finalmente in gran parte risolto. La copertura finalmente c'è l'infinita vicenda esodati sembra ad una svolta. Un nuovo emendamento alla legge di stabilità presentato questa mattina in commissione bilancio alla Camera ha ottenuto il via libera della ragioneria dello Stato che soltanto ieri aveva bocciato a sorpresa un altro testo sul quale maggioranza e governo erano invece d'accordo. Non andava bene dice la ragioneria perché avrebbe ampliato troppo la platea dei salvaguardati rispetto ai 120.000 per i quali le risorse ci sono già. Ecco allora la soluzione. I soldi in più oltre ai 100 milioni già stanziati arriveranno da una stretta sulle pensioni dei ricchi quelle davvero più alte sei volte superiori alle pensioni minime in pratica si parla di trattamenti sopra i 3.000 euro che verranno deindicizzati ossia per loro non scatteranno gli adeguamenti automatici all'inflazione. Non solo cambiano anche le categorie dei cosiddetti salvaguardati tutti gli esodati per i quali il governo si impegna a trovare una copertura scompaiono i lavoratori licenziati prima del 2011 a causa del fallimento di un'azienda ed entrano quelli andati in mobilità prima del 4 dicembre sempre del 2011 la nuova platea di esodati secondo alcune stime oscillerebbe tra le 9 e le 15.000 unità cifra che confermerebbe anche i calcoli più volte riveduti e corretti dal ministro Fornero la cui riforma ha creato questo enorme bacino di lavoratori rimasti in mezzo al guado senza un impiego e senza una pensione e porta alla firma dei due relatori il PDL ex ministro Brunetta e il PD Barretta anche un altro importantissimo emendamento approvato sempre oggi alla Camera quello sulla riduzione delle tasse a partire dal 2013 il cosiddetto fondo taglia tasse sarà finanziato da tre voci la lotta all'evasione fiscale il calo dello spread la riduzione degli sconti fiscali via libera anche al fondo sociale da 900 milioni di euro che dopo le polemiche dei giorni scorsi andrà ai malati di Sla e alle zone colpite da calamità naturali c'è poi un piccolo giallo con Palazzo Chigi costretto a smentire con una nota ufficiale notizie di stampa su un presunto blitz del governo per alleggerire l'IMU sugli edifici ad uso commerciale di proprietà della chiesa nessuna retromarcia garantisce l'esecutivo il rigore dicono i tecnici vale davvero per tutti e il ministro Fornero ha espresso la soddisfazione per la soluzione alla questione esodati ma per Elsa Fornero la giornata a Napoli per l'incontro con il ministro del lavoro tedesco è stata agitata anche perché c'è stata una dura manifestazione di protesta contro di lei la testa del corteo si fa scudo con una barriera in plexiglass dietro i manifestanti hanno i volti coperti da sciarpe e caschi davanti le forze dell'ordine in assetto antisommossa più volte intervengono con cariche di alleggerimento e la protesta contro il ministro Fornero a Napoli per il vertice intergovernativo Italia-Germania sull'occupazione giovanile il corteo parte dal quartiere Corigrotta in pochi minuti è il caos tra i manifestanti qualcuno indossa maschere che raffigurano il ministro del lavoro su uno striscione c'è scritto Yatevin ci sono gli studenti giovani dei centri sociali disoccupati e organizzati si definiscono contestatori precari ciusi schizzinosi almeno in 2000 si dirigono verso la mostra d'oltre mare dove si svolge il vertice e quella che sembra una manifestazione pacifica sfocia negli scontri è guerriglia urbana da una parte i manifestanti armati di mazze e bottiglie lanciano pietre e petardi dall'altra polizie e carabinieri sparano i lacrimogeni tra i cassonetti dati alle fiamme gli scontri proseguono per quasi un'ora un gruppo di attivisti si rifugia nella facoltà di ingegneria del vicino piazzale tecchio per evitare un'altra carica della polizia alla fine sono almeno 20 feriti tra i manifestanti secondo il dato diffuso dagli stessi organizzatori del corteo e tre delle forze dell'ordine due poliziotti e un carabiniere fermati dalla polizia e poi rilasciati due giovani denunciati per resistenza a pubblico ufficiale il sindaco De Magistris accusa sul lavoro il governo non ha fatto nulla Napoli è stata lasciata sola e la fornero ha replicato a queste parole di De Magistris è stato assente perché era stato invitato al vertice ha perso un'occasione non è vero che Napoli è stata lasciata sola certo è evidente che c'è una forte frizione soprattutto da parte del sindaco napoletano nei confronti del governo e si sa che sul tema del lavoro Napoli è purtroppo una trincea avanzata nella difficoltà di trovare nuova occupazione ma c'è un altro fronte che si fa molto aspro quello della legge elettorale di traverso adesso si mettono anche i radicali La voce di Emma Bonino in polemica aperta con il capo dello Stato fa salire i decibel di una giornata che quanto alla trattativa sulla legge elettorale è segnata da contatti sottotraccia e pochissime dichiarazioni pubbliche E spiace dirlo anche della Presidenza della Repubblica siamo ad un livello francamente diceva giustamente Maurizio Turco di Stokin perché questa pressione perché venga cambiata la legge elettorale a tre mesi ormai delle elezioni non più di tre mesi parole forti quelle della Bonino e visto il destinatario Giorgio Napolitano quasi più forte di quelle usate da Beppe Grillo nei confronti di Schifani un golpe l'evocazione di una possibile vittoria del Movimento 5 Stelle come motivo per cambiare le regole del gioco e tornare al proporzionale stile prima Repubblica aveva detto Grillo l'Europa ricorda l'ex commissario europeo Bonino sconsiglia modifica i sistemi elettorali in prossimità del voto e in effetti il 6 novembre scorso ricorda Bruxelles ha puntato il dito contro la Bulgaria che aveva fatto così nessuna replica dal Quirinale anche perché correrebbe il rischio di confermare eccessi nel pressing sulle forze politiche quello che filtra è semmai la precisazione che il capo dello Stato si è mosso solo negli interstizi del dibattito parlamentare il momento è infatti delicatissimo se non ci mettiamo d'accordo saremo spazzati via allora bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità un punto di intesa è possibile trovarlo dopo 48 ore di braccio di ferro l'Udc da ieri ha aperto alla richiesta di Bersani il premio di consolazione del 10% per il primo partito presumibilmente il PD che deve correggere almeno un po' il ritorno al proporzionale causato dalla soglia di sbarramento altissima il 42,5% per ottenere il premio di maggioranza introdotta con il blitz della vecchia maggioranza in commissione al Senato il PD su quella soglia ha alzato le mani ma sul 10% che deve consentire la governabilità è pronto alle barricate il problema a questo punto è il PDL dicono siamo un passo dall'accordo dice Alfano ma la posizione del PDL in effetti è confusa Gasparri per esempio tuona contro il premio di consolazione vuole proporzionale puro incerta la linea di Berlusconi tornato dal Kenya entrambi i partiti PD e PDL guardano tuttavia il possibile approdo nell'aula della Camera e alle divisioni interne nelle pieghe del voto segreto i filomonti del PD potrebbero fare qualche sgambetto al segretario gli ex AN pro preferenze potrebbero tentare qualche blitz la situazione per ora ingarbugliata sarà una legge transitoria ma va fatta riassume Ricoletta transitoria come dire poi si ricomincia definitivamente e comunque di una cosa va dato alto al capo dello Stato che non ha aspettato certo gli ultimi mesi per sollecitare il Parlamento alla creazione di una legge elettorale adeguata che superi la cattiva nomea dei nominati secondo il Porcellum che la legge peraltro tuttora in vigore se non ci saranno modifiche quella con cui andremo di nuovo a votare nella prossima primavera ma in vista del voto come si sa si sta consumando un rito importante per la democrazia dei partiti quella delle primarie stasera c'è il dibattito tra i cinque candidati alle primarie del centro-sinistra e un po' fumettisticamente mai avverbio è stato più adeguato e così è stata ribattezzata questa sfida a parte che i fantastici sono quattro e non cinque perché Silver Surfer è un personaggio a sé nato come nemico del gruppetto dei supereroi di Stan Lee ma tant'è quelli del partito democratico per presentare il primo dibattito tra gli sfidanti al primo turno delle primarie effettivamente non avevano tante scelte con quel cinque di mezzo era facile evocare il movimento sbagliato Bersani, Renzi vendola, Tabacci e Puppato tutti insieme ospiti di Sky nello studio dove si affrontano il giovedì i cantanti del talent show X-Factor una novità assoluta una scommessa sulla quale ha puntato forte il favorito della vigilia Pierluigi Bersani convinto che il gioco valga la candela è un elemento di attenzione di calamita verso il centro-sinistra sempre ripetuto a chi anche nel suo staff vedeva solo un rischio nell'affrontare la partita match che Bersani ha preparato rimanendo nella sua casa di Piacenza in silenzio evitando le polemiche dell'ultimo minuto stop alle frecciate anche con Renzi sulla rottamazione anzi il segretario PD starebbe pensando secondo fonti del suo staff ad una mossa in grado di smontare proprio l'argomento principe del sindaco di Firenze l'annuncio ufficiale dello stop a chi ha più di tre legislature via tutti senza eccezioni nemmeno per i graduati intenzionati a rimanere in campo come Bindi Finocchiaro o Fioroni scelta drastica che avrà inevitabili ripercussioni interne ma evidentemente considerata fondamentale per sminare gli attacchi di Renzi che alla vigilia il Fioretto meglio la sciabola l'ha incrociata con Massimo D'Alema dietro la rottamazione non c'è nulla l'affondo di D'Alema visto che non sa usare il computer gli spediremo le fotocopie del nostro programma la replica di Renzi con il sindaco di Firenze se la prende anche Nichi Vendola il leader di SEL provato ma anche rilanciato dall'assoluzione al processo di Bari dove era accusato di abuso d'ufficio attacca Renzi che lancia propostine create da qualche mago della comunicazione ma non dice niente sul dramma del precariato punta sui diritti civili e ambiente Laura Puppato consigliere regionale in Veneto che sfrutterà l'occasione soprattutto per colmare la minore popolarità rispetto agli altri sfidanti anche nei confronti di Bruno Tabacci assessore nella giunta Pisa Pia Milano che invece cercherà di mettere a frutto proprio la sua lunga esperienza sia in politica che in televisione ma ora c'è da parlare di una clamorosa iniziativa della magistratura inquirente di Trani infatti dalla procura arriva la richiesta che siano processati esponenti di rilievo delle agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch che hanno a più riprese come si sa declassato il nostro paese le agenzie di rating avrebbero fatto questo con l'intenzione di colpire di far male in maniera fraudolenta alla nostra economia il gota della finanza mondiale oggi ha imparato che in Italia esiste una cittadina chiamata Trani dove un giovane magistrato Michele Ruggero ha chiesto di processare i vertici di due delle tre più famose agenzie mondiali di valutazione del debito Standard & Poor's e Fitch nomi che noi non dicono niente ma i ministri delle finanze i boss delle multinazionali conoscono fin troppo bene cominciamo da Standard & Poor's Devin Sherma e Daylen Zhang Franklin Crawford Gill Moritz Kramer e Jan Lepalek e poi per Fitch Alessandro Settepagni e David Michael Wilmot Relay per tutti si chiede un processo per manipolazione del mercato pluriaggravata per Standard & Poor's i magistrati parlano addirittura di disegno criminoso ma cosa hanno fatto di male? I magistrati forti di perizie e studi di esperti sostengono che nel luglio dello scorso anno Berlusconi premier e Tremonti all'economia Standard & Poor's ha intenzionalmente fatto trapelare a mercati aperti la sua decisione di tagliare le prospettive economiche italiane per far crollare il valore dei botte e anche dell'euro idem per Fitch che quest'operazione la faceva a gennaio 2012 non solo Standard & Poor's viene poi accusata di aver bocciato la manovra Berlusconi di luglio 2011 ancora prima che venisse pubblicata sulla gazzetta ufficiale e di aver doppiamente declassato il rating dell'Italia a gennaio 2012 sul presupposto che il settore bancario italiano fosse a rischio ma su questo proprio il responsabile delle banche di Standard & Poor's pensava esattamente il contrario inizialmente indagati i due esperti della terza agenzia Moody's sono usciti dall'inchiesta archiviati le due agenzie a rischio processo parlano di accuse totalmente infondate vedremo cosa deciderà il giudice dell'udienza preliminare di fronte a questa inchiesta particolare particolare perché come direbbe Perry Mason manca il movente ossia i magistrati non dicono a che pro gli indagati avrebbero fatto tutto questo a chi giovava particolare perché fatta lo diciamo senza ironia è un dato di fatto dalla procura di una realtà che non fa neppure provincia tanto per restare all'attualità è come una cittadina dell'Oklahoma diceva intercettato uno degli indagati ma i magistrati non se ne curano anzi ricordano i nomi di chi li ha aiutati come la procura del Lazio della Corte dei Conti la Consob l'ESMA per ultimo ma non in ultimo anche gli Stati Uniti che ci hanno chiesto le carte è giusto ricordare che è stato arrestato l'uomo che secondo l'accusa avrebbe procurato tutto il tritolo che è stato utilizzato da Cosa Nostra per le stragi di mafia dei primi anni 90 probabilmente anche la strage di Capaci sicuramente le bombe sul continente a cominciare da quella di Firenze la strage di via dei Giorgiofili l'uomo si chiama Cosimo D'Amato oggi ha 57 anni e è stato possibile arrivare a lui grazie alle ultime rivelazioni del pentito Spatuzza il tritolo proveniva dal fondo del mare veniva recuperato tra gli ordini residuati della seconda guerra mondiale chissà se questo permetterà di fare un passo avanti nella difficilissima indagine per capire cosa c'era davvero dietro a quegli attentati ma c'è qualcosa di più recente un processo che è in pieno svolgimento e che è sicuramente molto spettacolare due ex ministre due ex meteorine e una cubana che in teoria vende case ma ha ballato vestita da Lolita a Villa San Martino tutte presenti oggi al processo Rubi con imputato Berlusconi le ultime sono nella lista delle puppy girls che ogni mese prendono dall'ex presidente del consiglio un bonifico da 2500 euro Rubi come sempre è assente ma l'avvocato Ghedini a fine mattinata gioca il jolly convocherà la ragazza marocchina a metà dicembre poi requisitoria e a ringhe a gennaio quindi in campagna elettorale la sentenza Rubi nei suoi verbali contraddittori resi all'inizio dell'inchiesta ha messo nel presepe di Arcore una serie di personaggi qualcuno vero qualcuno falso Belen e Cluney per esempio sicuramente falsi o Carfagna e Gelmini altra invenzione le due parlamentari non l'hanno mai vista quando la ragazza era nella villa loro erano impegnate altrove so che sembrerà strano ma io non sono mai stata ad Arcore in vita mia mi sembra sia molto un processo mediatico tocca alle ragazze Francesca Lodo mai stata ad Arcore Miriam Lodo è lei che la sera dell'arresto di Rubi tiene i contatti con Berlusconi a Parigi racconta lo stupore dell'ex premier quando apprese al telefono che la marocchina era minorenne ma se ha 24 anni dice che era presente in questura ma i PM Boccasini e San Germano avvertono e come mai non risulta da nessuna parte poi c'è Lisa Barisonte l'ospite cubana di Arcore ha fatto balletti nella villa erotici ma con nessuna fine sessuale magari qualche vestiti belli di dottora di bambina di professora di tante cose comunque è stato molto divertente Berlusconi vi aiuta la aiuta mi ha aiutato in tanti momenti visto che comunque c'è la crisi anche immobiliare lei che lavoro fa sono libera professionista sono agente immobiliare quindi collaborava con Berlusconi per le case può darsi anche Ghedini spiega che non c'è niente di strano se Berlusconi paga le ragazze testimoni sono amiche sue poi attacca il tribunale sono assolutamente non sereno su quello che sarà il risultato di questo processo perché siamo a Milano e siamo con un tribunale che a nostro parere certamente ha un'idea che a noi non pare quella corrispondente a quella della difesa la settimana scorsa l'avvocato ha ricusato un giudice del processo Berlusconi Unipol ora che siamo in zona Cesarini farà lo stesso per la corte del caso Rubi allora è il momento del nostro sondaggio vediamo subito i dati partiamo come vedete dal come vedete ecco dal popolo della libertà che riguadagna mezzo punto 0,5 in più al 16,3 lo 0,3 perde la Lega al 6,3 la destra più 0,2 al 2,5 andiamo al centro dove l'Udc di Casini riguadagna lo 0,2 al 5,8 stabili future libertà in movimento per l'autonomia più 0,1 per il Grande Sud meno 0,1 per fermare il declino allo 0,6 che è anche la percentuale più 0,1 del Pli nel centro-sinistra flette il partito democratico dai massimi del 29,9 al 29,3 meno 0,6 quindi sinistra ecologia e libertà divendola più 0,3 al 5,6 stabile partito socialista all'1,3 e alleanza per l'Italia allo 0,5 perde lo 0,1 fuori dai blocchi in movimento 5 stelle perde lo 0,8 resta al 17,4 riguadagna a mezzo punto l'Italia dei valori di Di Pietro 3,4 Federazione alla sinistra più 0,2 al 2,5 ecologisti verdi rete civiche più 0,1 all'1,5 lista Bonino Pannella meno 0,1 allo 0,7 su Tirol 0,5 altri 1 andiamo a vedere poi però che l'astensione resta alta pur perdendo l'1,1 dei massimi della scorsa settimana è ancora al 32,9 11,8 gli indecisi 3% metterebbero nell'urna la scheda bianca la fiducia ai Mario Monti perde ancora un punto e va a 46 se si votasse direttamente per il Premier ancora Monti sarebbe uguale alla scorsa settimana 15% Renzi 13 meno 1 Bersani più 1 12 Alfano stabile a 8 meno 1 Grillo 6 come Berlusconi Vendola sempre a 6 poi a 4 ci sono Luca di Montezemolo e Roberto Maroni Oscar Giannino Fini Casini Di Pietro a 2 Marcegai a 1 altri eccetera allora Masia poco spostamento se non è punito chi ha avuto più polemiche nella settimana e rimbalza chi aveva subito un colpo duro la settimana precedente cioè guadagnano mezzo punto sia il PDL sia Di Pietro che erano come dire i grandi sconfitti della settimana precedente se li possiamo mettere in questi termini mentre la polemica non ha certo giovato a 5 Stelle sì non ci sono variazioni significative rispetto alla scorsa settimana mi sentirei di segnalare effettivamente il calo di quasi un punto il Movimento 5 Stelle effettivamente è probabilmente legato alla partecipazione di Federica Salsi al programma di Floris se mette così dà ragione soltanto a Grillo che se non partecipava la Salsi a Ballarò non perdeva lo 0,8 no probabilmente queste polemiche sono state interpretate credo da alcuni da pochi come un segnale di scarsa di macrozia interna e quindi hanno fatto allontanare una parte dell'elettorato attuale al Movimento 5 Stelle verso la stensione verso altre forze con dei rimbalzi per esempio del PDL in questo senso almeno per questa prima settimana parrebbe che il fatto che esistano delle primarie in qualche modo abbia giovato ma sono solo segnali tendenziali da verificare nel corso delle prossime settimane allora grazie stasera c'è veramente poco altro da dire facciamo in tempo solo a vedere brevemente prima di dare la linea a Lili Gruber che ha con sé Bruno Vespa Antonio Padellaro andiamo a vedere il maltempo strade trasformate in fiumi percorribili solo con i mezzi anfibi ed i gommoni dei vigili del fuoco siamo in Umbria nella zona dell'Orvietano il fiume Paglia travolge gli argini in più punti è completamente esondato c'è chi viene salvato così dagli elicotteri dei vigili del fuoco come questo operaio che ha trovato scampo dall'acqua salendo sul tetto del capannone anche qui nei dintorni di Orvieto dove piove da 24 ore la circolazione è paralizzata da ore resta chiusa l'autostrada A1 verso Roma così come il tratto dell'Aurelia tra Grosseto ed Orbetello ferma anche la linea ferroviaria Pisa-Roma piove e l'Italia è ancora in ginocchio da un lato la Liguria e il Veneto già sommersi dall'acqua dall'altro il centro Toscana Umbria è alto Lazio raggiunto da una coda del maltempo che sta perdendo forza ma lascia dietro di sé danni enormi in queste ore sono la Tuscia il Viterbese la bassa Maremma le zone imprigionate dall'acqua fiumi e torrenti esondati campagne allagate centinaia di famiglie evacuate con due morte ed un ferito grave a causa del maltempo continue le richieste di aiuto e gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile in questa zona di confine tra Lazio Umbria e Toscana gli amministratori chiedono interventi straordinari il presidente della regione Rossi invoca l'intervento dell'esercito ed i primi militari sono già a lavoro nel Grossetano sulla costa tirrenica Alvinia è sommersa dall'acqua da questa mattina così come l'area di Montalto di Castro infrastrutture in ginocchio e danni per milioni di euro è il solito drammatico bilancio delle alluvioni il ministro dell'ambiente Clini dà cifre astronomiche per la messa in sicurezza del territorio almeno 40 miliardi nei prossimi 15 anni e stop ad ogni condono assicura allora in attesa di Vespa e Padellaro pubblicità Vi devo ancora dire perché se no sembra che non diamo certe notizie che l'ex capo di Telecom attuale leader del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera presidente di Pirelli è stato rinviato giudizio per ricettazione per la vicenda del CD contenente una serie di dati captati illegalmente dall'agenzia Kroll nel 2004 il processo si aprirà nel febbraio prossimo le borse Milano ha chiuso con un meno 0,39 e per quanto riguarda Wall Street il Dow Jones sta guadagnando circa lo 0,2 è tutto vi lascio a ovviamente a otto e mezzo buonasera domani grazie a tutti